Musica Salve a tutti ragazzi benvenuti di nuovo in questo nuovissimo video di youtuber life Benvenuti benvenuti buon salve qui il vostro Zerk E per prima cosa vi invito a lasciare un bel like Se volete che questa serie continui giustamente se non vi piace potete anche cambiare video a questo punto Se non vi piace Che ci state a fare qua sto qua Va bene tralasciando questo noi dobbiamo Eravamo rimasti dovevamo andare all'evento Quindi vai all'evento e non mi ricordo nemmeno di cosa che evento si trattasse Per prima cosa però Voglio un attimo passare il volume della musica che è un pochettino alto Così penso dovrebbe andare bene Conti qua Ok yeah che bella festa Va bene Parliamo con questo che c'ha l'asterisco Parliamo con quest'altro Così potesse che ci dicono di fare qualcosa Non lo so Mi fa piacere che ci stia divertendo Abbiamo solo 5 minuti adesso A partire da adesso E va bene le clausole Blah 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 Cosa così Cose che non mi interessano Parliamo con quest'altro Guardiamoci un po' attorno Ciao Se tu sei Zerk Ho sentito che fai video fortissimi Puoi registrare un video di un gioco E pubblicarlo Ti spedirò il gioco Vabbè solite cose accetto Tranquillamente Ok me lo invio appena Sarà a casa Io adesso però non so Non è che Non ci perdiamo in chiacchiere Blah 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 Ah poi uno di voi Mi ha consigliato che ci sono dei corsi Li voglio fare Io mi ero Totalmente dimenticato di questi corsi Ma vabbè totalmente Vediamo C'è qualcun altro che vuole No Ci dobbiamo solo divertire Ma se voglio da bere Non posso bere Vabbè Andiamo a casa È tanto Ci stiamo a fare qua Noi dobbiamo lavorare qui Giocare a carte era il tuo forte Ora puoi scegliere la modalità automatica Nella configurazione del pc Il tuo personaggio sceglierà le carte Ed editerà i video in automatico Man mano che migliorerai le tue abilità Migliorerà anche la tua Perizia Nel fare video automatici Anche se i video migliori rimarranno sempre quelli realizzati a mano Ok Grazie per aver pubblicato il video Zerk Dirò ai miei amici quanto sei bravo Ottimo Questo è il livello 8 Bene Questo è il gioco che ci ha mandato quel tipo Adesso lo facciamo subito Facciamo prima i commenti e poi qua Facciamo prima il gioco e poi iniziamo qualche corso Ok abbiamo risposto ai commenti Io direi Di fare subito Il gioco Che ci ha mandato quel tipo Qual è questo? Se no Che ci dimentichiamo Vabbè Qua le impostazioni No Inizia a registrare Non automatico Successivo Perché Quelli manuali Ha detto Sono Sono migliori Allora Inizialmente ci da anche un più due Quindi io farei avvertenza guru Però poi qua un meno uno Cacchio Non l'avevo visto questo Un più due Questo qua E io farei questo Adesso ci da un più uno e un più uno Quindi Indubbiamente questo L'audio va 8 di 6 Ne abbiamo tanto Io Mi butterei su quest'altro Almeno Facciamo tre in divertimento Invece di due Pi' uno Va quattro Ottimo Ci da un per due in divertimento Un per due in divertimento Commento divertente Per forza Fa due Uno per due Fa due Quindi non è che Poi poi Abbiamo un più uno Un più uno E Sì Questo qua E proprio commento qua Zero Abbiamo fatto Un per due in divertimento Noo Ho servito le lampadine Che palle Allora andiamo a editare Andiamo a editare Questo va perfettamente qua Ci sia questo che va perfettamente qua E poi alla fine Andiamo un po' a sgarrare Agarrare come si dice Quindi ci mettiamo Più verdi possibili Arriviamo a 4 di 6 E poi tutto il resto abbiamo al massimo Quindi volendo Potremmo buttarci questo dentro E concludere così Anche una musica di sottofondo Vai E labbra Sì Nessun nuovo record Però abbiamo aumentato il livello Quindi pubblica video Al fine delle lampadine Perché ho fame Ho sonno Quindi vai a dormire Presto E poi dovremmo mangiare Sto editando Non puoi usare il computer Fai i sandwich Vai Ottimo Anche quest'altro è completato Ok Inizia il corso Vediamo un po' Ah Bei prezzi ci stanno Un giorno Un giorno Un giorno E aumenta Un bel po' di cose Io mi farei Questo qua Corso di fotografia Per principianti Corso di video editing Corso di recitazione Per principianti Corso di informatica Andiamo inizialmente Con l'editing Vai Vai Corso completato Ci facciamo anche Un altro corso Ah poi aumenta Vedi intermedio Però vorrei fare Recitazione Per essere più divertente Questo cosa ci da Però costa pure Un bel po' Facciamo Facciamo una alla volta Vai Voglio fare tutti i corsi Voglio centi soldi Per i corsi Finanze Ah Dobbiamo pagare l'affitto Vabbè Al momento ce l'abbiamo I soldi Questo l'abbiamo commentato Non lo voglio promuovere Ovviamente non è che mi interessi Più di tanto Parliamo con lui Ehm Inoltre al cinema questa sera Non vorrei farti creare troppe aspettative Ma ho sentito che il film è magnifico Ti andrebbe Sì perché qua Voi andare al cinema Penso O forse lo dobbiamo chiedere noi Di andare al cinema Dai finisci il corso Andiamo al cinema Ottimo Allora Lo stile Basic Colore giallo Ma io di giallo Non ho niente Yeah Yeah Felice Oh Questa qui vuole parlare Ci darà sicuramente qualche video Da editare Sì Ok Senz'altro Te l'invio appena sarò a casa E non c'è più nessuno Quanto pare no Andiamo un po' No Tutto il resto non ci interessa Comunque c'è questa Va bene Poi mi faccio anche il sorriso della stampa E poi andiamo al cinema Certo che fare i capelli viola I baffi viola Ci vuole un'arte Quelli si abbracciano Come sono bello Entriamo nella hall Vediamoci qua Qualche volta mi dovete stare vicino a qualcun altro Tipo qui Che posso parlare con questa Alla fine vado a casa Quando non voglio parlare con lui È inutile stare lì Ottimo È arrivato il game Ce lo facciamo subito No Vado prima a dormire Che voglio fare la fine dell'altra volta Siamo aumentati di livello Punto talento Facciamo impressioni Bonus moderazione Carta disponibile 530 Ottimo Allora Vediamo un po' Carte corpo 530 Carte finali Passi quasi prendere questa Un'altra carta finale 235 Questo ci dà un meno uno Non lo voglio 285 Fu no Facciamo No Ce ne facciamo niente Ah facciamo carte disponibili Però sta volta Così subito facciamo Scegli il gioco Facciamo subito Il game Qua sono soldoni Gameplay Prima Ah Gameplay Deveci Faccio questo Inizia la registrazione Ma questo ce l'abbiamo fatto una volta Infatti è il secondo Vai vai Ho 18k di scritti Allora Inizialmente ci dà un più uno E un più uno Divertimento E Scrittura Io però con questo ci faccio Un 3 più uno 4 Andiamo così Poi il divertimento Lo recupereremo in seguito Abbiamo fatto un corto Per il divertimento Commento divertente Più uno Facciamo questo Distruggiamo Li distruggiamo proprio 3 e 1 4 punti Invece di un punto Più uno Sono due Qua sono 4 punti Sì Dobbiamo fare anche in fretta Perché poi il tempo scade Divertimento Adesso dobbiamo Vedere un po' cosa fare Ci devo buttare Per forza questo qui Poi guarda assassino Ci dà un più uno No Dobbiamo recuperare Sul divertimento E sugli altri punti Stiamo facendo Scusami Ehm Andiamo sempre di divertimento Oh no Questo qui Com'è il 3 Questa è un più 2 Quindi sono 3 punti Qua 2 e 3 Arriviamo a 8 1 per 2 Però divertimento Siamo bassi Quindi qua è 1 E qua Siamo a posto Così Saluta con la mano Questa è la carta finale Ottimo Ottimo Passiamo a editare Allora Questo è il primo Poi andiamo subito così Poi abbiamo uno sopra Uno sotto Va qui Bello collegato E qua ci guardiamo un po' Ehm No Non andiamo bene Io metterei questo qua Ehm Così E alla fine Ci colleghiamo così Ehm Per forza Allora Vediamo un po' Siamo un po' Scassi Solo un po' Nel divertimento Quindi facciamo una correzione Del colore Musica sottofondo Andiamo a 9 8 7 9 Adatti il contrasto Sensazione al nero Da 3 punti qui Nell'editing Vai Accetta Nuovo record Ottimo E nuovi livelli Pubblica il video Mmm Quanto pare Sembra che piaccia Allora io direi Di mangiare Un altro po' Dobbiamo comprare il cibo Ah Cosa miseria Odi però ci stanno Dai Adesso ci stanno Ehm Andiamo sempre di sandwich O farei un hamburger Sandwich Insalata 25 Ti do più 85 Qua più Non l'avevo vista Ottimo Vai Vai di insalata Vai di insalata Vai E dormiamo Ragazzi Ricordatevi Dovete mangiare Tanta insalata Ok Ok nel frattempo Che carica il video Io faccio un altro Corso Vi faccio un altro Growth Corso Corso di recitazione Per principi Ah Cacchio Non abbiamo i soldi Facciamoci questo Nessandra Quello che possiamo fare Vai Ottimo E ci danno Anche i soldini Dindini Ottimo 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 E poi andiamo A commentare Quindi Fai veloce Questo corso Andiamo a commentare Parla Parla Che vuoi Ciao Zerk Fare un mio video Mentre il gioco Ma ho un'idea Come registrarlo E montarlo Solite cose Bla 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 Certo Sono soldini Che entro E' arrivato anche il gioco Ma facciamo anche questo Vai I altri soldi Per fare altri corsi E per diventare Sempre più bravi E vai Nuovo video Di te Vai così Devo configurare I miei dispositivi Sì Ah Microfono Filtro pop Monodirezionale Eh Chi l'ha tolti Vabbè Inizia la registrazione Successivo Vai Ma ci da un per due Su questo C'è saluto formale Ah il logo 3D Subito sei punti Pam Iniziamo in alto Vai Sei punti così Poi abbiamo Un più due In Tre Video Quindi Tutto questo Intanto c'è la scroccona lì Che è tutto il mio computer E si vede anche nel video C'è Suono E copione Ma io farei divertimento Che non ho nemmeno un punto E audio Pam più uno Tra audio pure stiamo messi bene Vai C'è tutto questo Due E due Vediamo un po' P4 Dove arrivo con la scrittura Eh ci butto questo 14 su 2 Divertimento E audio Guarda assassino Vai Guarda assassino Abbiamo anche altri punti Divertimento Siamo un po' Ottimo Saluto con la mano Con un P4 Ma questo è venuto un video Mostro Allora Funziona allora Funziona nei corsi Eh Penso proprio di sì Funziona davvero tanto Quindi Stiamo con l'heading Questo va perfetto così Poi Va perfetto Ah 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 Va Dobbiamo fare tipo così Abbiamo un piccolo sgarrino Però poi qua si collega Perfettamente Qua si collega perfettamente Eh Vabbè Allora Abbiamo un po' Basso Il video Andiamo 9 di 6 Transazione a nero Ce la buttiamo Possiamo aumentiamo Questa 35 36 Quasi il massimo Mamma mia E Poi Solo il video Abbiamo Ci possiamo buttare Aumentiamo gli altri Aumentiamo anche questa Vai Elabora Accetta Qua Distruggiamo proprio il record E quando lo facciamo più questo record? Rivedendo il video che hai appena pubblicato Ti accorgi che c'è una parte in cui si sente mali Correggilo Sì E vai a dormire adesso Si distrugge queste cose Poi ci mangiamo un'altra bella insalata Guarda Distrugge la fame e il sonno Oggi è una bella giornata Ma vai via Dai Sloggia Non solo ci pago l'affitto Ma scroppa di tutto Questa tica Vediamo un po' come va questo video Per me Distruggiamo Pubblicazioni A proposito A proposito di pubblicazioni Grazie Dobbiamo fare un bel paper Pubblica Però non ho capito perché ci sono Sono forte? Ah un altro vai Una cosa nuova che bella Ok Commenti moderati E penso che per questo episodio è tutto Io vado un po' avanti Fin quando non succede qualcosa da farvi vedere Perché penso che adesso sarà tutto così Inizierò a fare corsi Diventerò più bravo E dovremmo fare anche Dovemmo fare l'aggiornamento Al prossimo video Facciamo un mega aggiornamento del pc Abbiamo 363 dollari Adesso faccio pure qualche lavoretto Fin quanto non Come se non ci fosse un domani Per guadagnare quanto più è possibile Tipo questo 55 dollari Ta Quindi ragazzi Io vi ringrazio Come sempre Per la visualizzazione del video Vi invito di nuovo A iscrivervi al canale Vi invito di nuovo A lasciare un bel like A passare sul canale di discord E da Zer Che è tutto Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao